in natura nulla avviene per caso e poi ci sono dei luoghi governati dal vento c'è terra in cui seminare e poi c'è un altro terreno dentro di noi e qui possiamo coltivare ho toccato qualcosa di veramente profondo sono un lupo del polder e ogni volta che sono chiamato a tramontare sarò sempre e comunque chiamato anche a risorgere non è un'esplosione ma è un'esplosione non è un'esplosione non è un'esplosione ma è un'esplosione non è un'esplosione non è un'esplosione il ciascchio non è un'esplosione Grazie a tutti.